Gordiale saluto buongiorno e ben ritrovati a tutti oggi è mercoledì 11 novembre 2015 questa è la rassegna stampa di Fano TV in diretta alle 7.30 con repliche fino alle 8.30 9.10 e 13.30 il santo di oggi vediamolo subito oggi è San Martino di Tursi Vescovo il sole è sorto alle 6.56 tramonterà alle 16.48 oggi avremo un cielo sereno poco nuvoloso per la persistenza di nuvole basse in particolare a ridosso della costa e nei fondovalle dell'interno le temperature saranno stazionari a lieve diminuzione i venti nord occidentali il mare sarà poco mosso domani giovedì 12 di novembre cielo sereno più poco nuvoloso attenzione alle foschie nei banchi di nebbia nei fondovalle poi temperature senza variazione di rilievo i venti sono da settentrione il mare poco mosso venerdì 13 novembre cielo sereno o poco nuvoloso temperature stazionari i venti anche qui settentrione di brezza leggera durante il fine settimana le nuvole di basse potranno risultare un po' più consistenti ma non saranno associate a precipitazioni a seguito un probabile nuovo rafforzamento dell'anticiclone sull'intero bacino del Mediterraneo quindi sono previste ancora giornate di bel tempo iniziamo la lettura dei giornali con la pagina del messaggero che si occupa del dramma che sta vivendo la famiglia di Selli la ragazzina di 22 anni di Lucrezia che da lunedì lotta tra la vita e la morte all'ospedale di Torrette di Ancona in una stanza del reparto di rianimazione ore disperate per la giovane Selli questo è il titolo del messaggero la 21enne lotta con la morte all'ospedale di Torrette dove è stata ricoverata dopo lo schianto in superstrada l'intera comunità sotto shock lunga veglia di preghiera nella chiesa di Santa Apollinare i messaggi degli amici su Facebook questa è la pagina con le fotografie vedete di questa giovane ragazza che lunedì intorno alle 13 ha subito questo incidente questo tamponamento violentissimo da parte di un 31enne di Pesaro che l'ha centrata con la sua auto mentre Selli appunto era Selena Cani questo è il nome Selena era ferma sulla strada ricordiamo che in quel tratto non c'è non c'è la corsia d'emergenza quindi praticamente era ferma era al telefono stava chiamando il soccorso stradale per farsi aiutare di questa tragedia di questo dramma ne parlano anche gli altri due quotidiani come il Corriere Adriatico la vita di Selli legata alla speranza restano gravissime le condizioni della 21enne vittima dell'incidente in superstrada vedete il momento con l'auto di Selli qua dietro questa invece cerchiata di rosso e l'Audi A3 che l'ha tamponata violentemente ovviamente in questo caso la direzione dell'auto il posizionamento dell'auto può confondere ma in realtà è perché si è girata altrimenti aveva lo stesso senso di marcia naturalmente andava verso Monte andava verso Roma troppi rischi senza la corsia d'emergenza questo è l'articolo sempre del Corriere Adriatico nella pagina di Fano il resto del Carlino lo stesso si tratta di questa di questa notizia eccola qua Selenacani ancora in lotta tra la vita e la morte i familiari dicono noi speriamo ma è dato ordine di espianto degli organi allora andiamo adesso invece sull'altra pagina restiamo sul resto del Carlino la pagina di Fano perché il nodo si parla del nodo dell'ospedale c'è quest'ultimatum del sindaco di Pesaro Ricci a quello di Fano Massimo Seri atmosfera incandescente scrive il Carlino domani resa dei conti all'interno della maggioranza l'opposizione incalza il sindaco Aguzzi che è l'ex che ha governato la città per dieci anni dice chiaruccia è la soluzione ideale Madan rigetta il progetto specchietto dice per le allodole condannato per falso in atto pubblico un medico dell'Asur non ispezionava le salme contrariamente a quanto risultava dai certificati di morte il sanitario firmava il nulla osta a priori da Fossombrone la Lega Lega Nord si imbavaglia per protestare contro Chiarabilli ecco la fotografia con questi esponenti il nastro isolante alla bocca ma come non punite i venditori abusivi e a noi impedite di esprimere liberamente il nostro pensiero così la Lega Nord di Fossombrone si esprime sull'atteggiamento dell'amministrazione comunale e segnatamente del vice sindaco Chiarabilli nei loro confronti non a caso due pesi e due misure si intitola la nota a firma del coordinatore cittadino Iuri Pandolfi scrive la Lega tempo fa nemmeno tanto in diretta su Fano TV il vice sindaco Chiarabilli aveva promesso con enfasi che si sarebbe prodigato nella lotta all'abusivismo e ancora calano i furti calano i furti in casa aumentano le rapine il prefetto annuncia sei nuove telecamere a Pesaro e il ripristino di quelle fanesi adottate anche misure per inviare personale aggiuntivo in provincia poi sulla strada delle barche invece e qui torniamo a Fano soldi che sono in cassaforte rinviata all'esecuzione dell'opera ma così si sono salvati i finanziamenti questa è una buona notizia dice l'assessore Fanesi ma ci sono critiche sul ritardo nella progettazione e poi Roberto Coppola la Coppola anzi che per oggi immagino tra poco inizierà la sua giornata da primo cittadino insieme al sindaco Serio una rivincita dice lui dopo il furto Roberto Coppola che tra l'altro questa sera accompagnerà il sindaco di Fano Serio anche qui in trasmissione perché questa sera dopo il telegiornale c'è primo cittadino e quindi in diretta il sindaco che avrà appunto al suo fianco anche questo ragazzo che ricordiamo è un ragazzo che è anche disabile quindi vivrà questa giornata e potrà vivere sulla sua pelle anche un po' i pro e i contro di questa città andiamo andiamo invece adesso sull'ultima pagina del resto del Carlino sul casello di Marotta i cittadini vanno dal prefetto oggi c'è questo incontro dell'associazione sul caso Ferrovia contraria alle opere accessorie collegate alla soppressione illustreremo gli aspetti inaccettabili del progetto approvato dal comune adesso apriamo invece il corriere adriatico anche qui sulla pagina di Fano gli ultimatum si danno soltanto in guerra nuovo ospedale il sindaco di Fano contro Ricci parole inopportune noi continuiamo a proporre chiaruccia Matteo faccia pure le sue proposte ma si ricordi che non è il presidente della regione il quale lo ricordiamo per inciso ha detto se non vi mettete d'accordo tra voi sindaci poi decido io quindi tanto per far capire tassa di soggiorno l'introito a Fano è cresciuto del 14% nonostante la città abbia perso 12 alberghi quelli che sono andati sotto il comune di Mondolfo Marchegiani dice investiremo tutto quello che abbiamo incassato nel turismo presentate poi tre video sugli eventi clou dell'estate dell'estate fanese quindi l'altra pagina del del Corriere Adriatico andiamo sotto da Adriabus un'accusa pretestuosa la società rivendica il pagamento dell'IVA dalla provincia Domenicucci dice compito della regione noi abbiamo già proposto opposizione al decreto ingiuntivo notificato dall'azienda sotto invece la stagione teatrale vedete la presidente della fondazione Katia Amati ora il pubblico dice l'Amati dimostri che ami la lirica ora il pubblico dimostri che ama la lirica adesso andiamo invece sulla pagina di Marotta del Corriere Adriatico opere compensative protesta che finisce dal prefetto il comitato attraverso Marotta incontra Pizzi che il prefetto appunto continua la battaglia in attesa della sentenza del Tar ed ora la pagina di Senigallia invece prostitute sotto le finestre in via Perugia residenti che sono costretti ad assistere ad assistere alla contrattazione sotto le finestre di casa e a volte anche alla consumazione una strada discreta e defilata dove evidentemente c'è una clientela fidelizzata perché a parte i residenti è difficile che qualcuno ci passi le lamentele sono comunque arrivate alla polizia municipale centropagine invece danneggiati dall'interruzione dei lavori il comune di Senigallia il comune creditore di Lanari vuole essere ammesso allo stato passivo nel fallimento della fortezza la pagina di Pesaro ambulanze ecco le strutture denunciate nel dettaglio i contenuti dell'esposto presentato dagli autisti dal quale sono scaturiti altri 17 filoni di indagine l'incredibile lievitazione dei costi dovuta al mancato rispetto dei 60 minuti di attesa previsti dal contratto nel mirino c'è anche croce Italia Marche di cui il tribunale di Pesaro ha dichiarato il fallimento nel marzo del 2013 e adesso chiudiamo la rassegna stampa con le pagine del messaggero in apertura quella storia quella storia malata che ha fatto il giro ormai d'Italia se ne parla tutti i giorni questa coppia di fidanzatini che ha ucciso o meglio il fidanzato di questa ragazzina che ha ucciso i genitori di lei amore assassino la fidanzatina è in carcere lei dice però io non centro nulla ma per il giudice ha partecipato io non centro nulla pensavo che la pistola fosse giocattolo quando Antonio che è il fidanzato ha sparato sono rimasta impietrita poi sono fuggito con lui per paura temevo che sparasse anche a me questa è la versione della sedicenne coinvolta nell'omicidio di Ancona i giudici non le hanno creduto e quindi l'hanno mandata dritta dritta in carcere tra l'altro c'è anche questo particolare questo precedente che anche il papà di Tagliata di questo ragazzo che ha ucciso la mamma di lei della fidanzata e ha ferito e ha messo ha ferito molto gravemente in coma reversibile il papà dicevo che anche il padre di questo ragazzo uccise per passione secondo quanto riporta infatti l'agenzia ANSA anche Carlo Tagliata il padre di Antonio avrebbe a sua volta ucciso per amore quando era ancora minorenne andiamo adesso sulle pagine interne l'Istau vuole Valentino ambasciatore la Confindustria lo vuole ad Ascoli il 21 per l'assemblea del centro Italia mentre Bucciarelli dice dobbiamo puntare su di lui Giuliano Calza ormai è un brand quello di Valentino Rossi riconosciuto ovunque è un marchigiano tipico sa prevenire i problemi è stato anni fa uno dei primi testimonial per le marche la regione nel 2016 punterà ancora su Neri Marco Re noi intanto partiamo con la terra dei piloti dice il sindaco di Tavuglia Paolucci domenica sulle nostre colline ne abbiamo visto la potenzialità adesso sulla pagina di Pesaro del messaggero invece la protesta all'istituto scolastico Santa Marta pronti alla fiaccolate a cucinare in piazza cucinare perché l'istituto scolastico Santa Marta è un alberghiero quindi sforna cuochi e quant'altro insegnanti e personale dell'alberghiero chiedono più impegno per garantire sicurezza in futuro ad un istituto in gravi difficoltà ieri c'è stata questa assemblea sindacale dove sono state decise manifestazioni per coinvolgere la città e premere sulle istituzioni poi invece a Santa Colomba sempre a Pesaro rotatoria pronta oggi riapre l'urbinate Palas Cavolini corsa contro il tempo secondo le ultime stime la ristrutturazione del vecchio palazzetto dello sport di Pesaro dovrebbe finire a giugno del 2018 l'anno dell'anniversario di Rossini l'edizione speciale del Roffa rischia perciò di dover rinunciare all'idea di ritornare nello storico palazzetto di Viale dei Partigiani intanto però è stato dato il via libera alla vendita degli spazi commerciali all'interno del nuovo complesso ore disperate questo l'abbiamo visto per la Giovane Selli sotto invece la vicenda e il sequestro di beni per quasi due milioni alle persone denunciate dalla Guardia di Finanza si parla dei tartufi in nero non c'è pace per re tartufo il prezioso tubero bianco è sempre più in nero saltano fuori infatti altri guai per i quattro imprenditori rappresentanti legali di tre aziende di acqualagna leader nel settore del tartufo già coinvolti nei mesi scorsi in una maxifrode fiscale prosegue dunque l'inchiesta che ha permesso di smascherare questi quattro imprenditori e questa maxifrode sotto visite necroscopiche ultima condanna sepolture autorizzate a Fano senza ispezione cinque medici avevano già patteggiato al sesto invece è stata inflitta la pena di un anno l'ultima pagina invece è quella del messaggero nuovo ospedale il sindaco Seri respinge l'ultimatum di quello pesarese Ricci Seri non accetta l'accelerata e le condizioni dettate da Pesaro sulla scelta del futuro sito anche l'ex Guzzi con l'Udc e Progetto Fano si schierano contro la linea del capoluogo Massimo Seri dice questi linguaggi cioè quello dell'ultimatum si usano in guerra non tra amministratori che dialogano si invece dice lui ha scelte lungimiranti e non di campanile poi i cantieri i cantieri che penalizzano chiaramente il traffico cittadino qui siamo a Fano Fano e Metauriglia quindi sono lavori per esempio a San Lazaro è stato aggiustato il semaforo Guasto che aveva creato molti problemi però chiaramente quando ci sono i lavori sulla strada soprattutto ci sono anche i disagi Foce dell'Arzilla cala invece il rischio di inquinamento mentre sulla pista ciclabile avanti tutta ma con l'incognita del Tar vi ho già ricordato che questa sera c'è l'appuntamento con Primo Cittadino in diretta quindi se volete potete chiamare il numero 338 49 68 250 oppure inviare un messaggio con Whatsapp che è l'applicazione gratuito oppure chiamare in diretta all'86 14 33 quindi dopo il telegiornale che come sempre sarà puntuale alle 20 e 30 io vi auguro una buona giornata arrivederci a domani a a qui approcate